salve ragazzone allora continuiamo con dai katana e continuiamo con la ricerca delle i frammenti della della spada purifier che dovrebbero servire per sconfiggere il mago malvagio che ha scatenato la peste su questo villaggio e ha soggiugato alla sua volontà il re di queste lambe qui c'è un pupistrello che non sta fermo non lo riesco a chiamare qua ok ammazzati i due distrelli ammazziamo sta specie di rai netto che sputa roba velenosa credo ammazzati questi si 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 tele trasportano sono capito bene quando fanno quel fumo scompaiono e poi riappaiono fino a che non sono uccisi ok ed è qua che c'è niente quindi proseguiamo qui chi è che mi spara stava là sopra boh qui esce un mostraccio ce ne ne è sceso un altro e qui c'è una save gem chi stanno a sparare noi quindi salviamo prendiamo questa save gem e proseguiamo alla vada da mezzo un'altra cosa che è successa è che il mikiko ha detto di sentirsi poco bene quindi probabilmente si è beccata la peste che c'è qua sopra allontaniamoci ok c'è un power up aumenta l'attacco vorremmo andare lì qua vediamo che c'è da qua ok si arriva solo qua sopra che era dove stavamo prima quindi niente di interessante direi e quindi direi che dobbiamo proseguire per di qua un mostraccio qui c'è dell'altro ninja qui c'è un mulino e lassù oh la lassù vede un power up ok proviamo ad entrare dentro sto mulino passando per di qua anche se poi penso o forse ci arrivavamo dopo oh vabbè ormai ci sono arrivato entriamo ok qui c'è uno scrigno che esplode vediamo vediamo sarà la sopra credo che stia qua sopra quella al piano di solo però qui non riesco a vedere niente questa non me la fa prende andiamo di qua andiamo di qua ritorniamo indietro dove sono rimasti i miei amichetti da qui c'è sta una via di qua allora io faccio un bagnetto a loro proprio no sono riuscito a saltare quindi proviamo a fare la strada principale prima di scendere qua sotto ok ok aspettiamo che appaiono ecco ci appaiono anche vicini a volte ok vediamo che c'è qua in giro qui niente proviamo a attraversare questo punto questa specie di mente questa specie di mente ok possiamo saltare però sono quasi sicuro che sia chiusa infatti si quindi qui qui ancora non ce lo possiamo andare vabbè quindi ritorniamo al mulino che sarà lì che dovremo andare quindi ritorniamo qua sotto e proviamo a fare questa strada verde qua facciamo questa specie di peranocchio ok questa ci sarebbe in una caverna con della lava vedo dei mostri ok 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 qui se scendete sotto che c'è qua energia e munizioni però mi pare che c'è nient'altro qua qui c'è un antidoto al veneno andiamo a passarti qua oltre queste ponte si immagino che la lava faccia male speriamo che questa porta si apra no non si apre questa porta e quindi dove vanno una allora forse da qua dobbiamo scendere in qualche modo vediamo no qua mi trovo al piano più sotto mi pare che c'è un piano di mezzo qua ecco forse dobbiamo scendere qua beh vediamo a passare qua vediamo a passare qua gli strelli ok qui c'è qualcosa ok un'altra scheggia della spada bene vediamo a passare eh passiamo qua oltre e Michiko si è ammalata non 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 si 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 ok allora continuiamo a andare Michiko si è ammalata ah no abbiamo finito abbiamo già finito questo questo quadro perfetto e quindi a abbiamo preso la era molto breve Michiko guarda io non non nessuno ha detto che tu eras ma non puoi andare così abbiamo bisogno bisogno di tenere un po' di help magari ok devi andare senza Michiko non puoi hey cosa stai tu mi piace ma non ne mica ne man ok quindi Michiko sta male Superfly la porta sulle spalle quindi nessuno dei due mi potrà aiutare durante questo durante questo questo livello, ok ci fermiamo qui, anche se il livello è stato piuttosto breve, e ci vediamo alla prossima è stato abbastanza divertente, ciao iscriviti al canale